In questo episodio andiamo alla scoperta del cosiddetto Sanatorio Maledetto. Ubicato in un piccolo paese di montagna, inizialmente fu una villa costruita nel 1879 e che fu donata tramite una federazione fascista al Duce, che realizzò, come si usava all'epoca, un sanatorio per i malati di tubercolosi, inaugurato poi nel 1931. Dopo la guerra, passò allo Stato italiano, che dopo il 1962, tramite l'Inps, lo trasformò in casa di cura. Viene chiamato Sanatorio Maledetto per la possibile presenza di presenze. Nel 1902 il proprietario si suicidò proprio lì, gettandosi da una finestra dopo la morte prematura dei due figli e della moglie. Molti esperti del paranormale captarono diverse presenze, ma la più sconcertante fu la presenza di una donna bionda che, indicando alcune pazienti, ne annunciava la morte, realmente avvenuta di lì a poco. Attualmente la proprietà è della ASL. Il complesso è stato chiuso nel 2013 e, all'epoca della chiusura, si pensava dovesse diventare una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Ad oggi però si trova ancora lì, abbandonato e alla mercè di vandali. Buongiorno amici, eccoci qua. Gennaio, anzi febbraio 2023 e, eccoci subito al nord, abbiamo iniziato il 2023 al nord Italia in un sanatorio aperto nel 1931, era una villa donata al duce, ecco gli altri dietro, adesso entriamo. e, eccoci subito al nord Italia praticamente dov'è l'entrata, eccola qua. Hanno messo il telo per i veteri. Certo, qua hanno proprio spaccato tutto. Dai, proviamo a scavalcare qua. Ci sto quasi. No, no, non si apre. No, non si apre, non ci metti in uno, non ci metti in uno, non ti metti in uno. Eccoci, ecco Nick. Siamo entrati, cominciamo a vedere qua dovrebbe essere abbastanza vuoto l'inizio. Ci sono bagno assistito. Oh, guarda. Ah, era un bagno, sì. Sì, la... Qua è bisogno dei motivi floreali. Il quadro elettrico. C'è la sala da pranzo. Sì, allora... Aspetta, guarda là, vedo delle cose interessanti. Vedo delle cose interessanti. Oh, attenzione. Questa è una... C'è una signora. Una cosa che... Boh, non si capisce. Queste sono tutte signore. Non so se... Qua sono una signora. Qua che fanno i capelli ha una signora. E Babbo Natale anche. Foto che ricordano dei momenti felici per le persone che venivano ricoverate qui. Questo era, non mi ricordo se l'ho detto già prima, il sanatorio per i malati di tubercolosi. Questa mi sembra abbastanza... Forse è andata a fuoco questa stanza. È abbastanza... È abbastanza nera. Qui c'è un fotografo. Si vede? In fondo dove si vedono gli altri. C'è la famosa sala. Quella più bella di questo posto, praticamente. Intanto vediamo, dammi un'occhiata qua, intanto che ci stanno gli altri. Però, vabbè, sono bagni. Tutti i bagni stanno. Ed ecco a voi. Che... Che spettacolo, bella. Pure sopra è decorato. Mamma mia. I quadri... Che sono rimasti ai lati. Bello. Amita... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella, bella, bella. La particolare è quello là, è vetro, penso, no? È vetro colorato. Bello, bello. Mi piace. Stiamo scendendo sotto. La stanza più bella l'abbiamo vista. Praticamente l'altra è tutto vuoto e o sfondato. Ah, questa qua è la stanza bella da sotto. Cioè, guardate pure da sotto. Pure da sotto è uno spettacolo. Cioè... Guarda qua. Figo, figo, figo. Sì, la tendina rossa che è rimasta lì, in questa stanzetta. Ecco, vedelo. E' davvero bello qua. Stiamo andando alla ricerca dell'archivio. Che è? Non lo so, che cazzo è un ruolo. Non per cosa vede l'aria, un sigino, tu? Eh, può essere... Qua c'è il quadro elettrico. Pezzo per fare la dialisi? Cabbina di trasformazione. Cabbina di trasformazione. C'è l'obitorio? Questo sarebbe l'obitorio? Che ci sta? Niente. E' la panza è un mare. Mi dimentico. Ammazza. Vuoto? Vuoto. Ma dove c'è il freddo? Perché ci sono presenti. Che c'è? Cabbina di trasformazione. Naturalmente tutto quanto... Spolpato. Qua tutto spolpato. No, non penso era quello. Però secondo me ci siamo molto vicini. Com'era la panza? Era da... Sì, era da ste parti, penso. Eccolo. Provato. Lensuola. Questa, vedi, l'hanno proprio smurata, sta porta. Cioè, guardate qua che è. 1987. 1984. Bellissimo. 91. Questo posto è stato... Guarda, qua se lo sta mangiando la muffa. 1987. Pratiche proprio vecchissime. Sì, infatti, cioè... Non so che ci trovano a tirare fuori e buttarlo per terra. Vabbè. Felici loro. Sì. Esatto. Esatto. Qua che c'è scritto destinatario. Vediamo un po' qualcosa da leggere. L'interessante. Bilancio dei comuni. Gazzetta ufficiale. Dio. Questo che è? Sì. Eccolo, sì. Ruolo. Personale. Le visite fiscali. Le visite fiscali. Bello. Questo andiamo. Avviso di ricevimento o riscossione. Cassa di risparmio. E' raccomandato. Quagliore. Sì, è contabilità. Sì, sì. Cartella archivio. Bello. Comunque. Terzo piano per vedere se c'è qualcosa. Stiamo trovando roba così buttata. Questi forse erano pure... i letti, penso. Le due, quattro, sei donne. Grazie. Toscana, Liguria, Trentino. C'è scritto sì. Ragazzi, vi vorrei far notare che... Guardate lì in fondo. Ole. Alpi. Bellissimo. Che c'è? La donna Lazio. Ah, il Lazio. La donna Lazio. La donna Lazio. La donna Lazio. Ecco la donna Lazio. Non so perché... È asociale, forse. Ecco tutti i letti. Sì, qua sembra come se... Ma c'è la lavora. Esatto. Lavori iniziati... Questo qua è stato chiuso nel 2013, quindi boh... Non so se magari poi avevano provato a fare qualcosa. Questa è questa. La toglia del... Della sala principale. Sì. Peccato che non ci siamo andati. Qua. Eccoci. Stiamo riuscendo. E adesso... Andiamo verso nuove mete. Speriamo che vi sia piaciuto il video. Grazie per averlo visto. Mettete sempre un bel mi piace. Iscrivetevi. E noi ci vediamo alla prossima puntura. Da tutti noi. Da Rossella, Nicola, Federico. E... E noi ci vediamo alla prossima puntura. 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 Grazie.